Un patto sociale per la capitanata e la richiesta, il suggerimento, una linea di indirizzo con dati alla mano che arriva dalla CISL Foggia, noi ci colleghiamo con il segretario Carla Costantino, bentrovata e buongiorno Carla. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Abbiamo letto un po' questo manifesto, questa nota, questa indicazione importante con dati alla mano che avete sollevato, sottolineato proprio nelle scorse ore. Partirei proprio dai dati della disoccupazione che a Foggia sono significativi? Sì, assolutamente sì, anche perché proprio ieri nel consegnarci, io vi chiedo scusa per la voce afona, nel consegnarci i dati della presentazione del rendiconto sociale dell'Inps, non hanno fatto altro che confermare le nostre gravi preoccupazioni, penso per esempio all'alto tasso di disoccupazione giovanile e femminile, che si attesta a percentuali molto più alte di quella che è la media, sia nazionale ma anche regionale. E soprattutto il tasso di inattività, che è pari all'intorno al 45%, credo che questo dato ci debba molto far riflettere, nel senso che a mio avviso denota anche una forma di rassegnazione da parte della nostra comunità, cosa che noi assolutamente dobbiamo contrastare e dobbiamo creare strumenti per dare invece risposte al nostro territorio. Siamo convinti che un patto sociale per la Capitanata, ovviamente incentrato sul lavoro, possa essere una soluzione ai tanti problemi che abbiamo. Noi siamo assolutamente consapevoli che sono i tempi giusti, anche perché considerate le enormi risorse che stanno arrivando sul territorio, dobbiamo anche avere la capacità di utilizzarle al meglio e dettandole ovviamente con le priorità che abbiamo sulla nostra terra. Noi per esempio pensiamo a questo patto sociale attraverso la governance condivisa sulle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, perché siamo fortemente convinti che devono andare nella giusta direzione, così come insieme alla nostra struttura nazionale e regionale chiediamo a viva voce dei correttivi alla manovra finanziaria, però declinato anche sul nostro territorio. Penso per esempio alla forte necessità di nuove assunzioni nella sanità. A proposito, la situazione è in ambito sanitario, è uno dei temi ovviamente a livello nazionale. Quali ripercussioni, quali punti di criticità sul territorio di Foggia? Noi dobbiamo sempre considerare che l'aspetto sanitario è un aspetto importante ed è trasversale, basti però pensare che negli ultimi 15 anni dal livello nazionale sono stati sottratti circa 37 miliardi alla sanità pubblica, quindi oggi abbiamo necessità innanzitutto di implementare l'organico, quindi probabilmente non basterà neanche lo sforzo della regione Puglia, quindi chiediamo veramente al governo di stanziare nuovi fondi per la sanità, bisogna incrementare i medici, gli operatori sanitari, gli addetti alla riabilitazione. Abbiamo premesse importanti, penso all'inaugurazione della cardiochirurgia che è avvenuta proprio qualche giorno fa, allora noi dobbiamo spingere su questo perché la sanità è uno dei servizi indispensabili in una società che diciamo oppure subisce un inverno demografico, noi avremo sempre più necessità di servizi, ovviamente non solo sanitari, ecco un obiettivo importante sarebbe quello di poter assicurare proprio una società che dia servizi alle comunità e allora noi spingeremo su questo per le nuove assunzioni, così come penso al tema delle infrastrutture, importanti sempre per quel tema che abbiamo toccato più volte anche con voi sul tema dello sviluppo del turismo che nel nostro territorio è uno degli aspetti insieme all'agroalimentare fondamentale, ma non solo infrastrutture viarie, penso alle strade al scorrimento veloce per il Gargano, penso al subappennino Dauno, bene l'avvio dei lavori sulla statale 16 Foggia San Severo, ma abbiamo senza dimenticare altro tipo di infrastrutture, penso a quelle idriche. Non dobbiamo, io ho lanciato un appello qualche mese fa, cerchiamo di progettare per tempo le soluzioni a un'emergenza idrica che tocca il nostro comparto, non solo agricolo, ma di tutto anche l'indotto agroalimentare e quello industriale. Allora tante sono le nostre priorità, noi veramente insieme al nostro gruppo dirigente ci siamo impegnati affinché anche attraverso le assemblee che stiamo realizzando per portare a conoscenza della nostra gente, dei nostri iscritti, il perché la CISL ha scelto di sedersi al tavolo e continuare a trattare senza andare ovviamente allo sciopero generale. Questo perché mi è piaciuta molto una frase di Mattarella che ha definito il nostro fondatore Giulio pastore un pioniere. Io credo che noi continuiamo ad essere pionieri sedendoci ai tavoli di confronto, mai abbandonandoli, cercando sempre di portare dei risultati per il nostro territorio, per il nostro paese. Quindi insieme noi pensiamo, forze datoriali, forze sociali, istituzioni, politica, ma anche terzo settore, che tutti insieme si possa creare un humus che dia risposte. Però dobbiamo farlo al più presto, dobbiamo impegnarci tutti insieme perché dobbiamo spingere per eliminare quelle criticità che tanto attanagliano il nostro territorio. Penso al divario territoriale sull'occupazione, ma penso al fortissimo divario di genere, penso, come dicevo prima, all'altissima in attività. Dobbiamo assolutamente cercare di dare delle risposte. Sul tema del PNRR siamo fortemente preoccupati, ne abbiamo già parlato più volte, sulle risorse destinate al superamento dei ghetti. Sono 114 milioni di Euro che sono lì ancora fermi, senza nessuna progettualità, con i tempi di scadenza che stanno lì come uno spauracchio e noi per questa cosa siamo fortemente preoccupati. Tutto molto chiaro, ci sembrava ecco doveroso ascoltarti perché ci hai fornito come sempre un'istantanea puntuale su quello che è uno stato poi di necessità di un territorio e evidentemente di migliaia di cittadini che lo abitano e lo interpretano poi nel migliore dei modi, compresi voi che siete una importante cassa di risonanza. Grazie Carla per essere intervenuta. Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata. A presto.